Musica Amici di TV Gargano, benvenuti al nuovo appuntamento di Verso il Voto, il rotocalco della web tv di San Giovanni Rotondo che tutte le settimane vi propone la politica. Ci sono i soffraggi in molti comuni del territorio, Manfredonia, San Giovanni, Apricena, giusto per citarne qualcuno e cercheremo tutte le settimane di proporvi i candidati sindaci o dei consiglieri di spicco delle varie liste proposte. Questo oggi ci è venuto a trovare Domenico Lamarchia, candidato, posso dire, del centro-sinistra, insieme per Manfredonia. Domenico, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito, lo puoi dire, candidato del centro-sinistra dell'area progressista, finalmente ci siamo rimessi insieme, questo è un bel segnale, un bel segnale anche di fiducia nella capacità e nella possibilità di avviare un cambiamento. La coalizione si chiama insieme per Manfredonia come la lista del sindaco, che poi ha al suo fianco il PD, il progetto popolare è Verdi, CON e MOLO21. Domenico, com'è nata questa candidatura? O meglio, io sono di Manfredonia, per cui ci diamo un tono convidenziale ovviamente perché ci conosciamo. C'è stato qualche altro nome fatto prima, poi a un certo punto è uscito il nome di Domenico Lamarca, che devo dire ha messo tutti subito d'accordo. Com'è nata la cosa, Domenico? Diciamo che non è stata una scelta facile, perché accettare di mettersi a disposizione della propria città, della propria comunità non è semplice, anche perché non si nasce sindaco, bisogna diventarlo sindaco. Soprattutto di un paese di 50.000 abitanti. Con tutte le problematiche, diciamo che il mio percorso di vita, il mio percorso professionale, alla fine mi hanno portato a dire basta stare lì a guardare. Adesso bisogna scendere in campo, a dare il proprio contributo e dare il proprio contributo non è solamente un diritto, è un dovere e segno anche di libertà. Provare a dire io ci metto la faccia, ci metto la faccia e con me ci hanno messo la faccia altre persone. E' chiaro che la mia scelta rappresenta una svolta, la volontà anche di provare a leggere, a dare una narrazione diversa della nostra città. La mia scelta rappresenta anche la volontà di investire, investire in qualcuno che possa in qualche modo mettere insieme, possa avere la capacità di mediare, possa avere la capacità di creare cooperazione. E' chiaro che sono stato molto onorato e vi dico anche che non è una scelta, ripeto, facile, non è stata, diciamo così, immaturata nel tempo. E niente, penso di non essere solo e sono sicuro di non essere solo anche perché a fianco a me abbiamo dei candidati, dei candidati che vengono da diverse aree, da diverse aree professionali, tutta bella gente. E penso che con questa bella gente possiamo cambiare le cose perché il cambiamento avviene non solo con le parole, avviene con le persone e ogni persona porta qualcosa di nuovo. C'è una voglia anche di riscatto, lo dobbiamo dire, abbiamo una voglia di riscatto rispetto a un passato dove si sono fatti errori ma si sono fatti anche cose belle, però adesso è il tempo e il momento opportuno per cambiare, per dare un volto nuovo alla nostra città e permettimi di dire ai cittadini, per tornare a essere orgogliosi di Manfredonia. Domenico, tu l'hai detto in tutte le salse che il criterio per la formazione delle liste è stata la credibilità, l'affidabilità del candidato e questa è la guida con la quale avete scelto i vostri candidati e quello che avete dato pure a tutta la coalizione. Allora, la coalizione ha guardato con molta attenzione a quello che è avvenuto nel passato e anche la scelta, anche la scelta dei candidati nelle liste è stata orientata anche a criteri ben precisi. Abbiamo detto anche dei no, io lo dico, abbiamo detto dei no a voti che ci potevano far comodo, però siamo stati capaci con il nostro comitato di garanzia all'interno di tutte le liste a dire di no. Massima attenzione perché abbiamo bisogno adesso di dare credibilità a quello che è un servizio fondamentale, la politica, dare credibilità alla politica, dare spazio alla buona politica. Per questo si è cercato di favorire la competenza, la trasparenza, l'onestà, la credibilità e io direi anche la passione per il bene comune. La consigliatura che ti ha preceduta è durata 18 mesi, poi c'è stata una raccolta di firme, dell'opposizione, di qualcun altro dell'opposizione ed è stata interrotta la loro attività. Tu come pensi di rapportarti con quello che è successo prima? Di discontinuità su tutto il fronte o pensi di raccogliere delle idee, dei progetti condivisibili e portarli avanti magari? La città aspettava un nuovo, un nuovo che fosse credibile, che potesse dare dignità alle istituzioni, che potesse creare un cambiamento. Difatti in questi circa due anni non è cambiato nulla. Noi siamo chiamati a ripartire, a ripartire e abbiamo ampi margini di miglioramento. Il lavoro. Qualcuno che non è di Manfredonia ci ha detto ma voi siete fortunati, c'è stato l'Enicam, c'è stato il contratto d'aria, tanti miliardi che sono arrivati e in quel periodo in effetti qualcuno è rientrato, non è andato via nessuno da Manfredonia. Adesso purtroppo è il contrario, non c'è il contratto d'aria o meglio qualcosa è rimasto del contratto d'aria ma poco. Come si evita questa diaspora, questa continua fuga di ragazzi da Manfredonia? Gli ultimi dati ci fanno capire che la nostra città, oltre a non fare più figli, purtroppo vede tanti giovani partire. Vede tanti giovani partire è perché mancano delle opportunità lavorative e perché forse il lavoro c'è ma forse non è dignitoso. Ieri ho incontrato alcuni giovani che mi hanno raccontato delle esperienze. E allora sentire che un ragazzo possa lavorare su una spiaggia per 12 ore, per 30-40 euro, ci fa capire che forse dobbiamo ridare dignità, dobbiamo lavorare perché il lavoro sia onesto, sia dignitoso, sia inclusivo. A Manfredonia non abbiamo solo problemi, a Manfredonia abbiamo tante opportunità. E allora abbiamo le imprese, le imprese che sono presenti, io le sto incontrando in questi giorni, sono espressione di coraggio, di gente che ha voluto investire nel nostro territorio. Non è facile fare questa scelta. E allora abbiamo queste imprese che si ritrovano con il fabbisogno di personale ma non hanno le figure professionali. Allora come amministrazione comunale siamo chiamati a cercare di creare connessioni tra il mondo del lavoro e il mondo della scuola. A creare nuove opportunità, dare la possibilità ai giovani di realizzare quelle che sono le loro idee. E se ci guardiamo intorno, le possibilità, anche attraverso progetti europei, anche attraverso progetti regionali, ce ne sono. È chiaro che poi abbiamo altre ricchezze. Sicuramente il turismo è una possibilità, ma il turismo diventa una possibilità se abbiamo dei giovani appassionati, preparati, che decidono di fare impresa. E noi come amministrazione comunale siamo tenuti a facilitare questo, a mettere i giovani in grado di gestire la cosa pubblica. Quindi io vedo la possibilità di rendere fruibili i beni archeologici, i beni naturalistici, i beni storici, attraverso anche una collaborazione tra pubblico e privato. Ma è chiaro che il turismo può diventare un volano, come si dice, bellissimo, ma se la nostra città riesce di nuovo ad essere ospitale, accogliente. E come facciamo a parlare di turismo se nelle strade, nelle periferie, non c'è decoro, non c'è pulizia? E poi bisogna lavorare anche e dare dignità a quanti sono gli artigiani e commercianti. Provare a capire come in qualche modo favorire la loro azione, la loro voglia di fare impresa, la loro voglia anche di trasferire le loro conoscenze ad altri giovani. Guardate, noi possiamo puntare sul lavoro se iniziamo a creare una connessione tra il territorio, una rete con la nostra comunità. Chi ti ha preceduto, i sindaci che ti hanno preceduto, si sono sempre lamentati della carenza di personale al comune, il che ha creato pure dei problemi nell'attività amministrativa. Come pensi di fronteggiare questa situazione? Farete subito dei concorsi? Come vi organizzerete, Domenico? Qualche anno fa, ricordo che sono stato al Cantagiro, e uno cantante famoso mi ha detto una cosa molto importante. Ha detto, tu puoi essere il più bravo dei cantanti, ma se il service non funziona, il concerto non riesce. Questo per dirvi che noi possiamo avere tanti sogni e dobbiamo sognare. Attenzione, dobbiamo sognare, perché la nostra città deve tornare a sognare. Però dobbiamo anche, e ne prendiamo atto, che noi ci troviamo con una macchina amministrativa che ha meno della metà di quelle che sono le risorse umane previste. E' chiaro, dobbiamo cogliere tutte le opportunità offerte anche dal PNRR. Dobbiamo cercare delle opportunità anche mettendo su una short list di persone che si occupano di europrogettazione. Noi dobbiamo fare in modo che i treni che passano li dobbiamo saper cogliere. E' appunto, PNRR, stavi dicendo che è un obiettivo pure questo, organizzarvi per poter intercettare questa grandissima opportunità che si presenta anche per gli enti locali, anche per i comuni. E' un obiettivo, è un'opportunità, bisogna essere pronti, bisogna essere affiancati da persone competenti, da consulenti, che ci possono aiutare. Ormai dobbiamo entrare nella logica che un comune non può fare tutto da solo. Dobbiamo creare delle alleanze. Alleanze col territorio, alleanze con dei professionisti. Perché una delle cose belle di una campagna elettorale è quella che entri nel cuore della città, vai a toccare le risorse. Ed è bello incontrare tanti giovani, tanti giovani preparati, incontrare giovani di Manfredonia che, guarda caso, stanno lavorando per fare progetti con altri comuni. Quindi le risorse ce le abbiamo. E allora diamogli questa opportunità. E vedrete che possiamo davvero, passo dopo passo, cambiare e trasformare la nostra città in una bella, una bella realtà. Adesso c'è la, da qualche anno almeno, c'è l'abitudine a programmare i primi cento giorni. Io non ti chiedo ovviamente cento giorni, però che cosa farai appena insediato? Allora, la prima cosa che ci siamo detti che dobbiamo fare è la sottoscrizione di avviso pubblico. L'avviso pubblico dà delle direttive molto importanti, perché il nostro fare deve essere un fare trasparente. Oggi più che mai siamo chiamati a fare attenzione. Il nostro fare deve essere trasparente, legale, deve essere attento al bene comune. Questa è la prima cosa, il primo atto che faremo. E chiederò a tutti di fermarlo. Poi ci sono, poi sicuramente nei primi cento giorni noi dobbiamo prendere coscienza della situazione economica, del nostro bilancio, vedere come siamo messi. E lo si può fare solamente stando lì. Poi dobbiamo, un'altra delle cose che possiamo fare è rivedere, per esempio, mi vengono delle cose spicciole, diciamo a portata di mano, rivedere il costo degli abbonamenti per i residenti, gli abbonamenti ai parcheggi, rivedere la possibilità se possiamo mettere a bando il progetto per l'illuminazione pubblica. Queste sono delle cose spicciole. Altre cose spicciole sicuramente è avviare subito. Noi della partecipazione non vogliamo fare solamente uno slogan. Lo vogliamo, perché guarda, una delle... Noi, l'uomo è per natura sociale. Però dobbiamo creare degli strumenti per farlo partecipare. E la partecipazione è in crisi. Anzi, in questi ultimi anni, lo dobbiamo dire, si è creato proprio uno scollamento tra la politica e la comunità. E allora dobbiamo subito attivare degli strumenti, delle assemblee cittadine, dei comitati di quartiere. Poi attiveremo subito un osservatorio per la legalità. Nei primi 100 giorni cercheremo di fare bene l'ordinario. Sarebbe già un grande risultato. Fare bene l'ordinario. Io lavoro nel sociale, ho una cooperativa, ho 20 dipendenti. Ecco. E allora so bene che una prima cosa che è richiesta a un imprenditore è quello di riuscire ad assicurare lo stipendio. riuscire a mettere su delle attività capaci di intercettare nuove risorse. Questo si possono fare nei primi 100 giorni. Con l'umiltà e con la capacità da ascoltare. Ecco, questa è un'altra cosa. Io vorrei che la nuova amministrazione, la mia amministrazione, l'amministrazione di centro-sinistra possa dare, cambiare il modo di fare politica. una politica più con la gente, meno nei palazzi. Una politica che non sia più fatta di politicanti, ma di gente che si mette al servizio con la passione, innamorata della propria città. E io penso che i risultati si vedranno. Iniziamo a fare bene l'ordinario. poi le cose straordinarie le cose straordinarie saranno diciamo a portata di mano. Bene, con questa considerazione chiudiamo. Grazie Domenico per la... Grazie a voi per l'invito e saluto tutti i miei concittadini che sono chiamati ad una scelta importante. Ecco, l'appello che voglio fare, cari concittadini, l'8 e il 9 giugno andate a votare. Tutto quello che è successo non può essere attribuito a una, due, tre persone. Se volete è colpa di tutti, di quelli che sono andati a votare e se meglio sono andati a votare in cambio di un favore o di chi non è andato più a votare con le sue ragioni, lasciando spazio a quella politica clientelare. L'8 e il 9 giugno andiamo a votare tutti. Bene, si chiude qui questo appuntamento col candidato sindaco di Insieme per Manfredonia e il dottor Domenico Lamarca finisce qui questa puntata e non mi resta che rinnovare l'appuntamento per il prossimo incontro non sappiamo ancora con quale politico. Buonasera e buona settimana a tutti. e buona settimana a tutti. e buona settimana a tutti. Buona settimana a tutti. e buona settimana a tutti.